Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite in compagnia della mia ragazza Salve E oggi siamo qui per provare questo nuovo rampino da ghiaccio, ne avevamo già parlato nei leak proprio dell'altro giorno, nelle news dell'altro giorno Ed insieme al rampino da ghiaccio però clamorosamente hanno aggiunto anche il rampino normale Infatti andiamo a leggere, rampino da ghiaccio Aggrappati, muoviti e scivola nell'azione con il rampino da ghiaccio Disponibile da Fabio Foltachioma, infatti si può acquistare da Fabio Foltachioma per 400 lingotti È un'arma esotica per capirci E inoltre il rampino classico, grappler e fuori magazzino Praticamente oltre al rampino da ghiaccio hanno riaggiunto il classico dei classici, il rampino Quello da 10 colpi ed è epico quindi viola Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti di questa riaggiunta Noi oggi ovviamente andremo a giocare con il rampino da ghiaccio Essendo che comunque il rampino normale è una stravecchia conoscenza Insomma la novità è questo qui Ovviamente prima di andare a giocare vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite Mi raccomando ragazzi è davvero fondamentale per supportarmi Quindi controllate sempre che in basta a destra ci sia scritto supporto a un creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato Perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo Grazie a vero di cuore a chi lo farà Tra l'altro regà abbiamo due ospiti speciali Che sono i nostri secondi account Perché in questi giorni sto giocando tantissimo Sia con Serena che appunto con i nostri secondi account Per completare le missioni di presenta un amico Quelle missioni che ti permettono di sbloccare Skin deltaplani e altra roba gratis Per esempio questo deltaplano ragazzi l'ho sbloccato proprio grazie a quelle missioni lì C'è anche il piccone pure quello l'ho già sbloccato Mi manca solo la skin E devo fare 60 livelli sia col primo che col secondo account È un po' complicato E quindi sto cercando di utilizzare ogni situazione Per fare esperienza Tra l'altro visto che siamo tutti collegati La connessione va anche un po' male Giocheremo con 100-120 di ping Che non è altissimo So che molti di voi sono messi anche peggio sicuramente Purtroppo Però per io che sono abituato a giocare a 20-30-40 di ping Fidatevi che è come avere un rallentamento in game Però bene o male ce la siamo cavata Ora vi lascio la partita Buona visione Ah c'è qualcuno che sta arrivando Sono leggermente in ritardo Loro Ovviamente io che entro per primo Non trovo nemmeno un'arma Non c'è nemmeno un'arma Oh meno male Ok Provo a togliergli tutto quello che trovo Non mi ha preso nemmeno la mitraglietta Come non mi ha preso la mitraglietta? Mi stanno sparando amore? Sì ho ucciso io lui Ok io mi faccio al volo lo shieldone Mi sa che sono un team intero eh C'aveva il rampino normale questo intanto se lo vuoi Oddio Mamma mia quanto fa schifo il leva ragazzi Quanto fa schifo il leva regà Sì intanto mi piglio quello normale Eccolo qui regà Lo mettiamo vicino al pump No questo non ci va a niente Perché mi ha preso a picconate Mi ha tolto 40 di picconate Va bene Allora ci dovrebbe essere Un'altra Chest Che però non ho Ah eccola c'era qui l'arma Vabbè rip Ed ecco ragazzi invece il rampino da ghiaccio Che viene venduto direttamente da Fabio Foltachioma Come vedete a differenza del rampino viola Che è questo qui che abbiamo appena lasciato Che ha 10 colpi Insomma il classico rampino epico regà Con 10 colpi fa quello che deve fare Il rampino ghiacciato Che ha la stessa funzione Ma c'ha colpi infiniti È però nerfato tra virgolette Dal fatto che quando lo utilizzate Guardate un po' Ci si ghiacciano i piedi Che in realtà Da una parte Può essere anche buono Se dovete scappare da qualche situazione Se dovete fuggire Se dovete pushare qualcuno Che magari sta scappando E voi riuscendo un attimino a scivolare Grazie al ghiaccio Siete più veloci E riuscite a raggiungerlo Però regà Dall'altra parte Ovviamente capite bene Che può essere scomodo Per esempio se doveste andare a prendere L'altezza a qualcuno Quindi magari usate Il rampino Su una struttura O un qualcosa Gestirla Gestirla Quella situazione Con i piedi ghiacciati Eh Non è tanto buono Ora esatto Proprio molti mi chiederanno sicuramente Gigi ma è meglio Il lanciagranate di kit Il lanciagranate di onda d'urto Oppure il rampino Anche qui dipende dalla situazione Mi hanno appena provato a sparare Amore non ho capito da dove Eh io ho sentito una cerchina Molto male Molto male Esatto Mi hanno picconato il secondo account Ok E Boh Non ho chiedito dove ci hanno sparato Allora insomma regà Tra ste due armi Allora sicuramente Può essere più imprevedibile Il lanciagranate di onda d'urto Soprattutto perché Il rampino Ha quei colpi limite Soprattutto quello epico Quello viola Bisogna vedere come li vogliamo mettere a confronto Perché comunque Anche il lanciagranate Ha le munizioni Insomma le munizioni E lanciagranate Sapete perfettamente Che non sono poi tanto facili da usare Cioè è molto comune Avere il lanciagranate di kit Ma non avere abbastanza munizioni Per usarlo Come dire Normalmente E con continuità Quindi ci può stare Ci sono i pro e i contro Da entrambe le situazioni Sicuramente sono dei bastanti entrambi Magari se vogliamo parlare Di uno contro uno Il rampino viola È sicuramente devastante Se vogliamo parlare però Di un attacco a sorpresa Da lontano Eccetera Il lanciagranate di kit Ha quel qualcosa in più Tra l'altro C'ho una macchina qui Qui vorrei provare a sparare Il maialotto È una speranza Che mi dia Ma si è fermato qui Ma Ma Io ho buildato Tutto cattivo Convinto che accadesse qualcosa Me la fai guidare Che la voglio un attimino Togliere dal loot Grazie Anche perché qui abbiamo Scildini E Scildone Allora Tra l'altro è morto subito Quindi i compagni pure Evidentemente sono andati giù E Boh Ok 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 Tra i due chi scegliere Non lo so regà Dipende dalle situazioni Probabilmente se avessi Abbastanza razzi Mi terrei sempre Il lanciagranate di kit Se magari non dovessi avere Abbastanza granate O comunque No granate Scusatemi Munizioni per il lanciarazzi Barra lanciagranate Allora forse Mi terrei il rampino normale Questo ghiacciato Regà Giusto se volete trollare Giusto se volete Divertirvi Perché per il resto Ribadisco È complicato Anche se però Comunque utilizzato Nelle situazioni giuste È devastante Regà eh Cioè usato nelle situazioni giuste Ragazzi il rampino da ghiaccio È veramente Veramente devastante Ribadisco per scappare È qualcosa di assurdo Proprio perché A differenza del lanciagranate kit A differenza del rampino normale Non ha munizioni O colpi contati È quello che lo rende Veramente un ottimo Un ottimo movement Insomma Quindi tanta roba Vediamo Vediamo un po' cosa Riusciamo a combinarci Insomma Eh sì Stanno sparando qui Ma stanno sparando Ah un lama Ce l'hanno con un lama Amore Allora Aspetto un attimino Però sta arrivando Altra gente Quindi allora Io hito un po' quelli Eh vabbè Raga manco un colpo Mi è entrato 33 Neanche un colpo 36 Ok Non sta entrando neanche una hit Neanche una Questo mi ha tolto 44 Con un pump da Anche abbastanza lontano Terrato uno C'è un mida Ma gli ho tolto pochissimo 41 Ok Fatto questo Ok Ok Terrato un altro No l'ho lisciato Ce n'è uno qua sopra di Mi amore Ho fatto danno Uh l'ho preso Non ho capito quanto danno gli ho fatto però E io ho preso danno da caduta ovviamente Eh Ha lo spasso lui Eh immaginao Ha fatto un dato di danno Dove è andato però? Eh ce l'avevo io qua sopra Eh non sto capendo dov'è Eccolo Sì Non ci credo Non ho fatto in fretta a cambiare No sto lontano l'ho lisciato L'ho rintato Mannaggia la miseria Si si no L'ho visto Stai curando E niente Ma si salva sempre di mezzo secondo Ma com'è possibile regà? Oddio no Chi è con le lucciole? Eh non lo so Ma lui è su su Aspetta Vieni amore Qualcuno in acqua No dai Ovviamente mo ce l'ha con me Vole operare le mie marti Lo sta sparando a me Oh mio dio Ma è un botto quello in acqua Eh lo so Ma finchè io ho questo Non mi posso distrarre Provo Ma la vedo molto complicata C'ho giusto Gli scildini Come cure Ok Allora io esco per provare a distrarli Ma questo qui Non so niente Ecco Ah questo è un bot Ma quindi l'altro è scappato Fatemi capire Non lo so Però io prenderei il fuoco E dare fuoco a tutto Oh mio dio Dov'è? Ma non lo so però se è sua eh Io nel dubbio Sta qui sta qui sta qui Sotto di te Oddio libero Mannaggia la miseria No regà Questo qui vi giuro Mi sta facendo impazzire Questo qui regà Eh È rimuovuto a me Vuole finirmi Ma non riesce a finirmi Mi ha sparato quattro volte Oh No 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 Mi so No non gli volevo fare il loser Anzi Gli volevo fare anche un gg Regà mi ha fatto impazzire Questo qua Mi ha fatto impazzire Regà questo qui Lo spasso oro lui Certo che mi ha spaltato Sì E infatti mi stava distruggendo Per il No rip è partita la safe Modo di rianimo Eh Rip Eh sì Provo Provo lì Provo ad usare il rampino ghiacciato Ecco per esempio In questa situazione Il rampino ghiacciato È tanta roba Però mi sa che non faccio in tempo lo stesso Anche perché Non è facile da usare Aspetta aspetta Però forse ce la faccio No non mi ha fatto Non mi ha fatto billare Dai 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 scongelati Ok ci provo Ma non Non assicuro nulla Il problema principale Ora è il loot Amore Ah c'è Aspetta però lo scildone Qui me lo faccio io Eh Mo il loot è un problema Oddio amore Siamo 2v1 C'è de botto regà Eravamo in 8-9 Fino a poco fa Stavo vedendo proprio la lobby Adesso siamo 2v1 Sono morti tutti da safe Che è successo? Eh io non ho Ho paurissima eh Io ho paurissima Io ho paurissima Che sia il solito Traiardino in solo V-squad Io ragazzi ho paurissima Che sia il solito Traiardino in solo V-squad Che non credo Riusciremo mai A far fuori purtroppo Ok Eh Dove sarà tra l'altro No sta cercando di rinimare Sta cercando di rinimare amore Sta qui sta qui sta qui Sta qui sta qui Non gli dobbiamo permettere Di rinimare i compagni No regà Mi sono sbagliato L'avevo preso pieno Col pump No 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 E si è chiuso tutto Pure sotto 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 Eh guardate Con sto ghiaccio Vedete qual è il punto negativo De sto rampino Poi si è chiuso anche sotto Ok Ah aspetta Se fa cadere la struttura Lei si rompe tutto Ah giusto Vai Eh c'ha la scala lì Let's go Era messo male Regà Ma tu l'avevi lacerato Perché Sì Ah Ecco perché Anche adesso L'avevo fatto 30 e qualcosa Ecco perché Let's go ragazzi Dai Ci siamo portati a casa Una buona partita Speravo di utilizzare Un po' di più il rampino Però comunque Come avete visto Bisogna usarlo Nei momenti giusti Perché se lo usate In un momento sbagliato E poi rimanete Con i piedi congelati È la fine eh Cioè ma Perdete completamente Il controllo In particolar modo Immaginatevi una situazione Di endgame Dove poco poco Finite fuori safe Cioè regà Non recuperate più Poi soprattutto Se avete una discesa E non riuscite più Ad aggrapparvi A nessuna cosa Detto questo ragazzi Fatemi sapere sotto Nei commenti Cosa ne pensate Quale rampino preferite Se è quello normale O quello da ghiaccio Vi ricordo ovviamente Il codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato Nel negozio oggetti Di fortnite Mi raccomando ragazzi È davvero fondamentale Per supportarmi Lasciate anche Un bel mi piace Iscrivetevi al canale Se è ancora questo è fatto Per noi è tutto Ci troviamo domani Con un prossimo video Qui sul mio canale Ciao ragazzi Ciao Ciao Ciao